Ciao a tutti! Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi apriremo il nuovo Mcdonald The Elf on the shelf. On the shelf. Questo è il nuovo Happy Meal con gli Elfi. Tutto a tema natalizio. Siamo pronti? Sì, io lo apro. Apri. L'apro io. Apriamo, apriamo. Ed eccolo qua. Questa è la sorpresina. Ma sotto il nostro panino, vedete, si sono sbagliati. Abbiamo avuto due sorprese. Guardate. Mattia, li apri? Un cervo e... Un gattino? No, quello è... No, Rina, non è un cervo. Come si chiama? Vediamo. Che cos'è? Il gattino e vediamo l'altro. Un gattino delle nevi. A me sembra una volpe. No, penso sia un gattino. Come vedete, ci stanno già le corne. Ah, questa è una rena. È vero. Quanto sono belli. Girali, facciamoli vedere tutti e due. Bellissimi. Che è più bella? Sono tutti e due belli. A te quale piace di più? A me il gattino. Gattino? No. Questo è il mio. Poi, come potete vedere, c'è un bel paninozzo. E le patatine con formaggio e bibita. La voglio un po' di arancia. Quindi ti lasciamo mangiare e al prossimo video, se non vi siete iscritti, iscrivetevi, lasciate un like, attivate la campanella e ciao! Ciao!